Buongiorno a tutti ragazzi sono Mirko in 3,4 per la gestione e per un nuovo video oggi siamo qua ragazzi in un video non è tanto lungo questo video almeno spero perchè vi devo solo dire 4 cose intanto mi sono tagliato i capelli che mi sono tagliato i capelli quello che facciamo ai capelli poi faccio vieni a dare minimo 4 specchi e ho uno specchio qui un specchio lì un bordo di specchio ragazzi ovviamente faccio i capelli una volta ogni tanto mi faccio quindi me lo voglio fare anche bene come ragazzi per dire che quella live che avevo fatto in realtà era piuttosto bene eravamo in 120 persone penso che la maggior parte erano americani poi c'erano tipo 30 italiani e 20 tedeschi non so beh era normale che c'erano tedeschi ovviamente sono in germania e quindi piglia anche i tedeschi comunque ragazzi io voglio dire solo che in quella live lì ragazzi avevo fatto anche un trucchetto intanto quella live lì ragazzi non l'avevo fatta a casa l'avevo fatta fuori con gli amici praticamente avevo fatto vedere un trucchetto di cui fottevo sempre i miei amici e gli facevo sempre tunnel un trucchetto che ora si sto giocando ma ora non ve lo faccio perché non ho mi dovrei attaccare tutto bastone cioè tre piedi posizionarlo per poi farvi vedere il trucchetto che non ce lo voglio praticamente era un trucchetto che facevo tunnel ogni volta facevo tunnel quello che mi attaccavo che arrivavo io tazza tunnel sempre così ragazzi ve lo insegnavavo e vi devo dire che c'era una c'era un amico a una clip che stava registrando ma no per youtube no? per tenercelo noi che se questo video ragazzi fa un bordello di visualizzazioni e un po' di mi piace vi metto la clip nel prossimo video proprio ve la faccio partire magari faccio il saluto e poi vi faccio partire la clip di cui c'è un pezzo dove io tiro eramo in strada diciamo tiro una pallonata all'angolo del del cosa dell'energia dei cassetti dell'energia e faccio il triple tunnel ai miei amici proprio loro camminavano con la palla che io ho fatto tre volte tunnel proprio a tre amici di fila è stata una cosa epica e si dovevi vedere ora la clip non ve la posso mandare perchè il mio amico mi ha detto solo se fanno un po' di video questo video e se fanno un po' di mi piace ti mando la clip e ha detto se no no ce la teniamo solo per noi cioè manco io ce l'ho la clip però l'ho vista da lui ecco al clip lì c'era anche vabbè noi che parlavamo ovviamente e facciamo un po' di giochetti ai ai tedeschi e nel senso andavo al campo c'erano quattro magari tedeschi che stavano giocando quattro ragazzi e facciamo una partita infatti abbiamo anche dei video di due ore penso che i miei amici registravano col telefono facciamo partite facciamo anche i giochetti che li fottevamo a tutti invece fottevamo quelli di vent'anni poi c'erano tutti tutti tattici poi ta ta dopo stavo cadendo ho fatto la doppia adesso tutti precisi e io punto poi una partita penso che l'abbiamo vinta una partita abbiamo fatto pareggio tipo 2 a 2 mi chiamavano erano forti qui ragazzi non potevamo battere c'erano quattro ragazzi noi eravamo allora noi eravamo tipo allora noi eravamo in cinque penso allora noi eravamo in quattro abbiamo fatto pareggio vabbè loro facevano calcio da anni eh allora ragazzi voi se volete la clip dovete solo lasciare tanti like e fare tanti vedete vabbè ovviamente alle visualizzazioni poi vedete il video non vedo mandate il video alla vostra madre non lo so se volete quelle clip lì perchè le cose così ok fatto se volete darci quella clip lì che in cui facevo fottevo i miei amici ed ovviamente quel pezzo di io è fighissimo ovvio se metterò quella clip lì ragazzi metterò sottofondo la musica la musichetta che ne ho già una allora ragazzi ehm vi devo dire solo che vabbè comunque la sera clip non la metto ragazzi è perchè intanto se non se non faccio le visualizzazioni e se non ce la ti dai non la metto ok la metterò o più avanti o quando avrò più iscritti che farò più visualizzazioni di questo video comunque ehm la clip non la metto ragazzi perchè i miei amici hanno chiesto di non metterla o solo se fa tanti like questo video e visualizzazioni perchè se non l'ho detto non c'è senso lì c'è tutto questo perchè c'erano tante clip che avevamo fatto di partite e giochetti e vedi posso mettere magari in un video apposito di faccio tipo mi ha piuttosto messaggi faccio una piccola serie magari su queste cose perchè ho clip di 2 ore e 1 ora io non posso caricare più di 20 30 minuti penso questo e quindi devo fare ogni volta 15 o 18 minuti ogni volta devo fare 18 taglio e porto nell'altro video così sarebbe mentre ragazzi questo video è finito dimmi se i capelli sono venuti bene o no so ritorno dal parrocchino se facciamo così ok fa un po' schifo vediamo se andiamo a fare bene i capelli grazie grazie un attimo che mi faccio i capelli con voi un attimo eh un attimo eh un attimo eh Bene ragazzi non carico il video che ragazzi perché i suoi problemi di luce perchè non so scontate mi stanno formando formiamo tutte le lampadine tratta ancora il bagno questa qui vista mi si è fulminata quella lì va e non va c'è ora sta andando però c'è una la patina che dentro ce ne sono due e una fulminata ok fatica bene qui ce l'ha presa a diventare sì che l'ho presa io penso una presa qui o funzionano che faccio ci andò ok ragazzi riecco intornato ragazzi noi abbiamo ormai ragazzi mi sono tutte le ferie della scuola ci abbiamo solo sabato e domenica poi c'è la scuola che poi si inizia avrò due mesi di fila di scuola cazzo e poi poi vabbè dopo due mesi ci sarà agosto maggio ovviamente e posso solo registrare ragazzi quando c'è solo un sole tipo questo vedete quando c'è tutto tanto sole così io posso registrare perché mettono non so tipo prometto così e media tanta luce oppure potete mettermi qui e voi dovessi benissimo così tipo e volete benissimo vedere grazie spero che questo video vi sia piaciuto intanto ah ragazzi non ve l'ho detto ma lì ha detto vabbè sarà un'occasione dovevamo andare lì tutti a giocare per un video non se sarebbe pure di youtube però abbiamo detto solo se si fa tante visualizzazioni capito spero che avete capito come vi ho detto c'erano tante visualizzazioni e ho portato anche altri metri tipo questo si vede spaccato si vede spaccato qua si vede è questo che però funziona no e io li ho usati per registrare tipo facevamo tipo uno di qua che dipendeva la porta quello di qua dipendeva la porta sinistra e facevamo le registrazioni poi gli ho chiesto ai miei amici se portavano tutti i treppiedi che anche loro ce li avevano ma loro li usano per le foto e tolè cazzo ne approfittiamo li portiamo tutti siamo già un po di treppiedi che poi erano 10 15 che avevano un po diciamo interazzi spero se si è piaciuto se ho qualcosa da dirvi non lo so in tanti tra poco da andare a giocare a calcio non penso che giusto perché non sono con i miei amici ma sono con una mia amica e poi non so chi penso che sono con una mia amica e mia sorella penso se no vado io alla mia amica e basta a giocare qui non facciamo partite cioè facciamo solo passaggi oppure becchiamo le traverse comunque lasciate un video perché le traverse magari mi organizzano i miei amici ancora un'altra volta e facciamo un video con loro per le traverse come volete ragazzi però se gli sia piaciuto non ha più niente altro da dirvi avete capito ragazzi perché non ha fatto vita anche se c'era sole però c'era poco e quando mi metterò qui scuro tentavo malocchino nero solo bianco io qui ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se non è piaciuto lasciato un like se non vi è piaciuto se vi è piaciuto lasciate lo stesso like così potete ragazzi un video anche non so scegliete voi che video volete su cosa lo volete su quel gioco sul telefono che volete o se volete un video sul minecraft che ho per la prepera per non posso fare visuale epica però posso vedere il mio mondo nell'aria che c'ho tipo uno sky wars che ho fatto io non era una cosa scaricata ha fatto io la sky wars è nato su tipo sopra le nuvole e fatto un mondo e era figo sotto la carta con tutte le mie farm ovviamente di mob e tutto se vado un video su qualche gioco qualche partita su batte che è un casino di giochi mi siete sotto nei commenti grazie alla prossima video qua la mirco che è tutto barato e tutti fanno la loro rete io c'è un po mongola avete già dati ore